Palermo si prepara ad un altro weekend da record. In vista della sfida alla capolista Frosinone, il Renzo Barbera si riempie di ora in ora. L'ultimo comunicato del club rosanero parla di oltre 9.000 biglietti staccati che sommati alla quota degli abbonati certifica già oggi che saranno sicuramente oltre 20.000 i tifosi presenti sugli spalti. Il primato è stato raggiunto nella sfida interna contro la Regina ma anche il record stagionale dei 26.000 di questo passo sembra pronto ad essere sbriciolato. Cresce l'attesa in città per una sfida quella al Frosinone che riporta a galla i ricordi delle ingiustizie e delle antisportività del 2018 quando i Rosa persero i playoff per la promozione in Serie A per andare poi incontro al fallimento e ricominciare tutto. Sabato pomeriggio il Palermo tenterà di riscattare la sconfitta di Genova e rimettersi in marcia anche per l'obiettivo playoff. Dell'attesa sfida contro i Laziali ha parlato in settimana il difensore goleador dei Rosanero Ivan Marconi. Sabato contro Frosinone sicuramente è una partita che si prepara da sola perché comunque affrontiamo la prima della classe e sappiamo che è una partita molto delicata e sappiamo che dobbiamo anche riprenderci dalla sconfitta e ovviamente giochiamo in casa davanti al nostro pubblico e sarà molto importante fare risultato. Già da oggi siamo focalizzati sul fatto che incontriamo un avversario importante e già da oggi la stiamo preparando nel miglior dei modi. Rispetto alla gara d'andata per quanto mi riguarda che sono difensore dovremmo essere più bravi nella fase difensiva, dovremmo cercare di attaccarli alti, di non lasciargli spazio. Sicuramente siamo più gruppo, lo si nota anche perché abbiamo fatto 9 risultati utili consecutivi ma perché soprattutto siamo un gruppo unito, un gruppo che si vuole bene e anche i nuovi sicuramente ci stanno dando una mano, si stanno integrando alla grande e noi dalla vecchia guardia stiamo cercando di farli sentire il più possibile parte di questo progetto. Sappiamo che per i nostri tifosi la partita col Frosinone è una partita molto importante, è quasi come un derby e sicuramente questa partita la prepareremo già da inizio settimana focalizzati sull'obiettivo che è quello di far risultato.